Un lungo applauso dopo l'ultima nota della Sinfonia numero 39 in Mi Bemolle di Mozart ha salutato la performance della nuova orchestra Scarlatti, che ha aperto il ciclo dei concerti d'autunno del 2017 con un appuntamento suggestivo, organizzato nella Basilica di San Giovanni Maggiore a Napoli. Per l'occasione i musicisti sono stati guidati dalla lucchese Beatrice Venezzi, appena 27enne e già direttore d'orchestra apprezzato sia in Italia che all'estero, che dal 2014 collabora assiduamente con la nuova Scarlatti. Il ciclo di concerti, organizzato grazie alla partnership tra nuova orchestra Scarlatti e Università Federico II, si sposta per le prossime tre date nella chiesa di San Marcellino Effesso. Il prossimo appuntamento infatti è il 27 ottobre e in quell'occasione si esibirà la nuova Scarlatti Young, sotto la direzione di Marco Attura. È nostra convinzione, ha spiegato Gaetano Russo, fondatore e direttore artistico della nuova orchestra Scarlatti, che questi nostri giovani possono esprimere un livello che permette un convincente confronto con le pagine eseguite, con l'aggiunta di quella vivacità e freschezza che rende il tutto più attraente. L'attenzione ai giovani, inoltre, è rilanciata anche dalle nuove campagne di comunicazione rivolte a un target più giovane e da una politica dei prezzi estremamente accessibili, soprattutto per gli studenti e il mondo universitario. Grazie a tutti.